Niente pappe per lei, soltanto il sano e naturale latte materno. Bene. Il viso le si è gonfiato così durante la notte. Niente febbre, ghiandole normali. Ha saltato le vaccinazioni, vedo. Noi non ci vacciniamo. Non crede funzioni, no? Credo che le industrie farmaceutiche vogliano farci pensare che funzionano per gonfiare i loro bilanci. Posso? Certo. Tutto naturale, niente tinture, è un'ottima scelta questo, un giocattolo naturale. Le industrie di giocattoli di sicuro non ricaricano sulle rane. Non mentono su quanto spendono in ricerca e sviluppo. Il peggio di cui possano essere accusate di produrre è una rana molto noiosa. Sa qual è un'altra ottima industria? Deliziose piccole bare per bambini. Si possono avere inverderana, rosa pallido. Davvero. Gli anticorpi del buon latte materno proteggono il bambino solo per sei mesi. Ecco perché queste grandi industrie se ne approfittano. Pensano che spenderete qualsiasi cifra per i vostri figli. Vuole cambiare le cose? Si ribelli. Se qualche centinaio di genitori preferisse far morire i figli piuttosto che bacinarli, i micri dei prezzi crollerebbero molto rapidamente. Mi dica che cos'ha. Il raffreddore.